Nuovo assetto dell'Exilva, nuova governance, call conference che ha visto protagonisti partecipi da remoto, i rappresentanti del governo, le parti sociali, il commissario Arcuri, l'azienda ArcelorMittal. Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Allora Rizzo, proprio a caldo, le sue impressioni dopo questo confronto con le varie parti? Ma nulla di che, c'è stata in continuità con tutti gli altri incontri, tante belle parole in cui ci hanno raccontato a parole quello che dovrebbe avvenire. Arcuri più volte ha ribadito, dobbiamo fare le cose vere, non le cose da libro dei sogni, come alcune delle cose che sono state fatte negli anni precedenti. Il paradosso poi alla fine è che noi stiamo ragionando su parole che spesso entrano in contraddizioni con altre parole che gli stessi soggetti hanno detto negli incontri precedenti. Faccio un esempio. Arcuri sull'impianto di preridotto Drai ci ha raccontato per diversi incontri che gli impianti erano esterni al perimetro Ilva. Oggi invece, in un passaggio, ci dice che uno degli impianti non è escluso che venga costruito all'interno di Ilva, però senza scendere nello specifico perché le cose sono le sole. L'impressione che ha avuto? Quella che ho raccontato a loro, quello che ho detto a loro, gli ho detto che un ragionamento serio non si può fare senza i documenti. Allora noi abbiamo bisogno, uno del contratto che il governo ha firmato, che In Vitale ha firmato con Arsenal Metal, due del piano industriale. Non sono stati forniti ancora? Ma certo, gli ho detto se volete una valutazione anche di tipo tecnico, sia ambientale che economica, o ci dà i documenti e ragioniamo sulle cose concrete, vere, e vi diciamo che questo è possibile o non è possibile, regge o non regge, altrimenti, come dire, noi stiamo facendo un ragionamento al contrario, perché oggi l'abbiamo detto chiaramente al Ministro, stiamo facendo un ragionamento come le scatole cinesi, al contrario. Perché oggi in realtà quello che viene fuori è che il Ministro dice, vabbè, guardate, per me potete iniziare la discussione per l'eventuale accordo sindacale con In Vitale e con Arsenal Metal, ma la domanda vera è, l'accordo sindacale dovrebbe essere la parte finale dopo, come dire, aver varato il piano industriale, dopo aver sottoscritto il contratto e quindi, o dovrebbe essere la parte iniziale, perché qui stanno facendo le operazioni al contrario. Perché io gliel'ho detto in tutta onestà. Abbiamo la sensazione netta che si stia riproponendo, che Arsenal stia riproponendo, stavolta con l'appoggio di In Vitale, quindi del governo, le stesse criticità che aveva posto in termini di numeri e in termini di salario durante la trattativa fatta con l'allora Ministra Gualenda e poi successivamente chiusa con Di Maio. Lo voglio ricordare a me stesso, la discussione iniziò non da 10.700 assunti e con la garanzia degli altri 1.700 poi di fine piano, ma con una richiesta numerica molto più bassa da parte di Arsenal, che sul tavolo scaricò anche il costo del lavoro e quindi, come dire, Arsenal tentò di portare la trattativa a ragionare su questi due binari. Meno lavoratori e lavoratori che costano di meno. Io gliel'ho detto oggi ai ministri, sembra in tutta onestà che stiamo andando verso, stiamo perseguendo quella strada. perché un dato di fatto ce l'abbiamo già, il numero, sono i lavoratori i cassi integrati perché oggi loro nel marasma generale in queste informazioni sparate nel mucchio così a destra e a manca che alcune volte fanno fatica a stare insieme rispetto all'idea che il governo ha sulla questione ILVA, una certezza ce l'abbiamo. E qual è? Quella che ci saranno almeno 3.000 cassi integrati. Abbiamo detto al governo, non ci prendiamo in giro. Fino al 2025, anno, diceva la Morselli, della piena occupazione. Il lavoro, dicono, si riduce fino ad azzerare completamente e questa è la prima certezza che abbiamo. Ci saranno i cassi integrati. Circa 3.000? Sì. E rispetto all'altro accordo non erano provvisti i lavoratori in cassa integrazione. Peggiorativa la situazione. Peggiorativa. Poi c'è un altro elemento, ancora più di rompente. I 1.700 non vengono completamente menzionati, sono completamente tagliati fuori da qualsiasi schema, da qualsiasi garanzia. Anche qua peggiorativa rispetto a prima, perché nell'accordo del 6 di settembre comunque una garanzia per iscritto ce l'avevano, una garanzia di fine piano, che oggi viene completamente a mancare. Abbiamo notato, tra l'altro, che Arcuri in una mezz'ora di esposizione non ha nominato minimamente i lavoratori di Vena S. Quindi, come si diceva, questo non è un preludio positivo. Poi abbiamo detto al governo, guardate, non vogliamo essere, porre pregiudizi iniziali, però ho citato i documenti o altrimenti abbiamo difficoltà a iniziare una discussione vera. Se volete una valutazione da parte nostra. Cioè, bisognava partire dai documenti, dal piano industriale, sennò di che parliamo? Del nulla? Anche ad oggi non c'è, perché qui lo schema probabilmente è al contrario, non lo dicono, però facciamo un accordo sindacale e poi in base all'accordo sindacale rimoduliamo. L'accordo sindacale si fa su un piano industriale, per sottoscrivere un contratto, deve avere un contratto davanti. Per ragionare, soprattutto per dire, sta cosa mi va bene, sta cosa non mi va bene. E poi abbiamo detto al governo, queste sono belle parole, per usare il termine di Arcuri, e scusate se siamo diffidenti, però sono dieci anni che la politica nazionale ci prende in giro, perché ha detto più volte, ha ribadito di voler risolvere il problema di Taranto, legato alla questione ambiente e salute, alla questione occupazione. Ad oggi stiamo con meno lavoratori occupati, centinaia di casi integrati, gente che è stata espolta dal mondo del lavoro e le persone, tra l'altro, che continuano ad ammalarsi, con un ambiente che continua ad avere ripercussioni pesantissime rispetto allo stato della fabbrica. L'atteggiamento dell'azienda di Arsenal Mittal era presente da Morselli? No, oggi è stato un atteggiamento soft, ma semplicemente perché Domenico Arcuri, come dire, ha fatto tutto lui, in sostanza, ha descritto, diciamo che l'unico elemento che è emerso, la simbiosi, che è stata molto, molto chiara, tra Arcuri e tra la Morselli. Altro che cambiamento, è nuova governance. Sì, sì, si va in continuità. Vabbè, Arcuri dice ci mettiamo 400 milioni, da subito però, pur avendo il 38%, con 400 milioni, la governance sarà 3,3. Quindi ha fatto un passaggio velato, facendoci capire che comunque le cose cambieranno, noi non ci crediamo assolutamente. Al governo però abbiamo ribadito una cosa, abbiamo detto, noi siamo abituati a ragionare sulle cose reali. Quindi ho citato i documenti, perché le cose reali oggi sono appalti che non vengono pagati e, come dire, di nuovo, nuovamente abbiamo avuto comunicazione di aziende che non stanno pagando, non lo stipendio, non le tredicesime, denunciando, alcune volte, come dire, non ufficialmente perché hanno anche paura di ripercussioni, denunciando il fatto che Arcelor non sta ottemperando agli impegni che ha sottoscritto. Il clima, gliel'abbiamo detto, c'è un clima di paura all'interno di quella fabbrica che è senza precedenti, una completa assenza di relazione, dal punto di vista sindacale, e io la vedo complicata avviare un processo che deve portare a una discussione, al dialogo, all'inclusione, con soggetti che sono, dal mio punto di vista, e lo dico, l'ho sempre detto, lo riconfermo, non sono proprio predisposti a ragionare, quindi qui non è che ci vogliono far intendere che adesso, come dica, entra lo Stato, l'amministratore è sempre lo stesso, cambia l'atteggiamento, no, dal mio punto di vista ho l'idea, come dire, che riconfermo, che sono, come dire, non sono abituati a ragionare, sono abituati a fare, come dire, gestione delle industrie in maniera completamente diversa, anzi, spesso e volentieri, entrano anche in netto contrasto con... Poi c'è il tema più grosso, che è la questione del territorio, l'abbiamo detto, il territorio è stato completamente tagliato fuori dalla discussione, è in una discussione in cui abbiamo una città che è coinvolta, centinaia di migliaia di persone che vivono su quel territorio e che stanno subendo, purtroppo, gli effetti nocivi degli inquinanti di quella fabbrica, dal nostro punto di vista è inaccettabile che si continui, come dire, a far finta che il territorio non abbia un peso, anzi, fossi stato, ecco, fossi io il governo avrei fatto un'altra operazione, anche innovativa rispetto agli ultimi fallimenti degli ultimi dieci anni, avrei tirato dentro il territorio per tentare di avere la più ampia condivisione possibile, chiaramente se tiri dentro il territorio devi aprire discussioni che ad oggi non sono all'ordine del giorno, che sono anche e soprattutto legate a quello che può diventare Taranto nel futuro. Ecco, Rizzo, mi veniva una domanda, per quanto riguarda i lavoratori ex-Silva in AS, si era parlato, era intervenuto anche l'onorevole Vianello, sulla questione della integrazione salariale, c'è stata traccia nella discussione di oggi? Sì, ho posto io il tema, quartiere a un certo punto, da quanto abbiamo capito, ha detto, no, guardate, il problema non sono stato io, ha fatto intuire quasi come se l'emendamento non fosse stato presentato, io poi sono rintervenuto e gli ho detto, guardi, non è così, perché io ho il fascicolo, cioè la dico così, non è che noi scriviamo le cose sulla scorta delle emozioni, quando è uscito ieri il comunicato dell'onorevole Vianello, io sono andato a verificare sul sito del Parlamento gli emendamenti presentati, ok? E nel fascicolo degli emendamenti presentati, sono 463 pagine, all'articolo 51 c'è l'emendamento che non è solo a firma di Vianello, ma è a firma di 10 parlamentari. Poi che cosa abbiamo fatto? Prima di fare l'articolo, di annunciare anche lo sciopero, abbiamo, come dire, anche fatto un giro di telefonate, gliel'ho detto ai ministri, guardate che qui, non è che Vianello lo dice, l'hanno confermato anche altri soggetti che appartengono a questo governo, quindi alla maggioranza, che ci hanno confermato che il Ministero del Lavoro aveva autorizzato, ma era chiaro, semplicemente perché era il Ministero che sul tavolo l'altra volta, a domanda precisa, aveva risposto sul tema integrazione, proprio la Catalfo e Padoanelli disse non vi preoccupate, l'emendamento è stato presentato. Quindi, la dico così, se qualcuno racconta che l'emendamento non c'è, io non sono, come dire, un padre di atti, neanche io, però se è stato fatto, è stato fatto. E' riscontrabile, c'è un fascicolo di 463 pagine e quindi poi si è inceppato qualcosa, perché sappiamo che al Ministero del Lavoro è stato dato a parire favorevole, poi non si capisce che cosa è successo dal Ministero del Lavoro al MEF, perché tu sai che gli emendamenti passano al vaglio. Certo che i lavoratori e il valenese sembrano una realtà scomparsa. Siccome poi Gualtieri a un certo punto non ha risposto, dicendo, guardate, non è colpa mia, l'emendamento, io non l'ho visto, però, quindi come se... A un certo punto la domanda è stata, la pagate l'integrazione? E risponde la Catalfo. Vabbè, la domanda precisa che abbiamo fatto alla Catalfo, che ho fatto alla Catalfo, ho detto, ma, signor Ministro, l'emendamento a un certo punto, siccome la legge di bilancio ormai è chiusa e noi abbiamo il problema del mille proroghe, perché l'anno scorso il problema che abbiamo avuto è che quell'emendamento è stato inserito nel mille proroghe. Cosa è successo? Abbiamo dovuto attendere altri due mesi per quell'integrazione. Abbiamo detto ai Ministri, guardate, che è un problema, ve l'avevamo già detto negli incontri precedenti, avevamo detto, infilatelo nella legge di bilancio perché così andiamo in continuità, altrimenti il rischio è che se entrano le mille proroghe, con la tempistica del mille proroghe, noi per due mesi rimaniamo senza integrazione. E dire a un lavoratore che guadagna 800 euro al mese, guarda che non c'è più le 200 euro di integrazione, con famiglia, figli, con bollette da pagare, è pesante. Quindi abbiamo chiesto alla Catalfo di fare che cosa? Abbiamo detto che c'è la possibilità dei decreti ristori, quelli sono immediati, che stanno per uscire. Inserita nel decreto ristori, il problema l'abbiamo risolto, quindi si va in continuità per tutto l'anno 2021. Lei è intervenuta garantendoci che viene inserito nel decreto ristori. Ma anche lei non ha smentito che l'emendamento non ci fosse, anzi, lei dice io quello che dovevo fare l'ho fatto, cioè l'ho autorizzato l'emendamento. Mi sembra più che ci sia, la dico così, una battaglia dei bisticci all'interno della maggioranza. Il brutto di questa storia, di questa vicenda poi qual è? Che loro litigano e ne pagano le conseguenze ai lavoratori che devono stare con il cuore in gola, lo ripeto perché quelle 200 euro purtroppo le condizioni economiche di oggi incidono pesantemente nella vita delle famiglie e dei lavoratori. Quindi Rizzo, possiamo concludere un incontro, una call conference abbastanza interlocutoria perché mancava il presupposto, ossia il piano industriale, cioè un qualcosa di, più che altro, dichiarazioni di intenti senza una base documentale. Mancano i documenti, poi avrei chiudo parentesi, ho ribadito al Ministro che stiamo aspettando la convocazione sulle proposte che USB ha fatto e il Ministro dice le proposte USB che noi abbiamo letto attentamente sono interessanti e vogliamo discuterle, non vi abbiamo convocato fino adesso perché stiamo nel casino più totale, però la convocazione arriverà di concerto con il Ministro del Lavoro perché la questione amianto, la discussione la vogliamo aprire, mettere sul tavolo, rispetto a cui sai che ho fatto la discussione sull'amianto, lavoro sull'ante, LPO, lavoro di pubblica utilità. Io credo che l'unica possibilità che il Governo ha di mettere un po' d'ordine dal punto di vista dell'occupazione, al netto delle cose che abbiamo segnalato e della posizione nostra sul piano generale che dal nostro punto di vista è un fallimento fatto con un soggetto che fino adesso non ha rispettato nulla a nessuno. Una delle soluzioni che il Governo deve mettere in campo è quella di partire proprio dall'esigenza delle persone. Cioè noi abbiamo un problema di numeri, qua non è che dobbiamo vergognarci a dirlo. Se uno mi chiede che cosa pensa rispetto all'eventuale ipotetico piano che il Governo sta presentando, io ti dico che noi fra due anni staremo punte da capo, anzi avremo peggiorato ancora di più la situazione. Quindi il ragionamento qual è? Sediamoci, troviamo un'alternativa occupazionale se c'è la possibilità a parità di salario, che possono essere gli LPU, che vengono fatti in alcune regioni e non capisco perché a Taranto non si possono fare. Diamo benedetto, finalmente come dire, apriamo questa discussione benedetta sulla questione amianto perché è assurdo sapere che i lavoratori lavorano in presenza di 4.000 tonnellate di amianto ancora oggi all'interno di quella fabbrica e non aprire nessuna discussione per riconoscimento del beneficio. Ragioniamo sul lavoro usurante, mettiamo a disposizione quelle risorse che ci stanno per la questione degli incentivi, per chi vuole cambiare vita, vuole magari aiutare l'economia circolare aprendo altre attività, però tentiamo di ottenere dei risultati concreti perché altrimenti, lo dico in tutta onestà, ci stanno proponendo un accordo di modello sindacale che prevede altri esuberi con la promessa di ricollocazione che non ci sarà. Una decurtazione sensibile sullo stipendio, credo che questi qua vogliono portare lo stipendio dei lavoratori di Arcelor Mittal a livello di un caso integrato, la dico così, perché se tu mi chiedi il taglio del 30%, che secondo me è quello che ci chiederanno loro, azzerando tutta la parte della contrattazione integrativa, e lo dico perché esattamente è una delle richieste che fece Arcelor nella scorsa discussione, quindi loro stanno riproponendo lo stesso meccanismo. Stavolta però partono dal contrario, prima l'accordo e poi faccio il piano industriale, che per noi è una cosa completamente inaccettabile.